L'incidente mortale nella serata del lunedì 3 luglio, poco dopo le 19, sulla statale 26 a Candia Canavese. Una motocicletta custom si è schiantata frontalmente contro ad un camion cassonato. L'impatto è stato molto violento e il motociclista, dopo essere stato scaraventato sul parabrezza, è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco di Brea e i carabinieri della compagnia di Chivasso. Inutili purtroppo i tentativi di salvare il centauro. Ferito e trasportato in ospedale, invece, il conducente del camion. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti